Appuntamento quasi storico per il Seravezza Calcio impegnato mercoledì ore 15.30 nei quarti di finale della Coppa Italia Lega Nazionale di Lettanti contro la forte e quotata Sanremese. I verde-azzurri di Walter Vangioni sono arrivati a questo punto della manifestazione dopo aver eliminato negli ottavi di finale il San Donato Tavarnele a calci di rigore. I Liguri si sono sbarazzati invece dell'Inveruno. In precedenza il Seravezza aveva eliminato il Ghibiborgo 3-0, Grosseto 2-1 e Ponsacco 2-0. Tra l'altro la squadra versiliese reduce dal pirotecnico, spettacolare e nervoso 3-3 nel derby con Real Forte e l'auspicio è che la fatica non si faccia sentire troppo nei muscoli e nelle gambe. Vangioni schiererà la formazione migliore, compreso il leader Gigio Grassi, che invece sarà poi squalificato in campionato. Ricordiamo che in caso di parità al novantesimo si procederà subito a battere i calci di rigore per stabilire la squadra che approderà in semifinale. Fischio d'inizio alle 15.30 per espressa richiesta e motivi logistici della Sanremese. Avversario tosto, davvero tosto, come testimone al successo 2-1 di domenica scorsa a Savona e relativo primo posto in classifica con 25 punti appaiata al favoritissimo Prato.